L'assessorato regionale alla famiglia delle politiche sociali e del lavoro ha stanziato ulteriori 715.000 euro da destinare alla creazione delle strutture ludiche destinate ai bambini disabili, rendendo possibile lo scorrimento della graduatoria dei progetti presentati dalle amministrazioni locali all'avviso pubblicato a ottobre del 2019. Sono così state finanziate tutte le istanze ritenute ammissibili, anche quelle alle quali in un primo momento non era stato possibile assegnare risorse per insufficienza di fondi. Complessivamente la Regione dunque ha utilizzato oltre 7.200.000 euro provenienti dal Fondo Nazionale Politica e Sociali, riuscendo a soddisfare le richieste di 188 comuni. Anche per questi ultimi finanziamenti, come per i precedenti, il contributo originariamente richiesto è stato decurtato del 15%. Grazie allo scorrimento della graduatoria il finanziamento è stato adesso concesso ai comuni di Via Grande, Valguarnera, Caropepe, Torretta, Roccafiorita, Racalmuto, Centuripe, Castellumberto, Ravanusa, Valverde, Agira, Pietra Persia, Castrofilippo, Castronovo, Polizzi Generosa, Moio Alcantara, Piedimonte Etneo, Salemi, Comiso e Messina. Il finanziamento del parco giochi inclusivo è certamente una bellissima notizia per la comunità di Piedimonte. L'impegno dell'amministrazione è quello di realizzare una struttura che sia veramente accogliente e che consenta a tutti i bambini di trascorrere delle ore liete in compagnia. Pensare ai bambini è un segno di grande civiltà e ogni società che vuole essere tale deve preoccuparsi innanzitutto dei più deboli. Un ringraziamento all'assessore, alla famiglia che ha mantenuto un impegno e che aveva preso con la nostra comunità e di questo siamo lieti.